Consumi in calo per le famiglie Valsuganotte, si spende meno e si tira la cinghia. I Trentini e i Valsuganotti hanno ridotto i consumi. Nel 2019 si è registrato un calo della spesa media delle famiglie. L'anno scorso, infatti, in un mese medio, sono stati spesi quasi 2.500 euro, di cui 400 per alimentari e analcolici, 41 euro per alcol e tabacchi, 100 per calzature e vestiti e quasi 850 euro per le bollette. È aumentato del 13% circa il costo dei servizi per la casa e i mobili. Si spende meno per la salute, i trasporti e le comunicazioni. La spesa media per l'affitto è di 554 euro al mese e per il periodo marzo-maggio 2020 le proiezioni non sono per nulla positive. A livello nazionale si stima un calo dei consumi di circa il 4%. In Italia, la regione con la spesa media mensile più alta è il Trentino Alto Adige, quasi 3.000 euro. In coda Puglia e Calabria, dove al mese si spendono quasi 1.000 euro in meno del Trentino Alto Adige.